bene ragazzi ciao amici di fisherlandia e benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi sono veramente contento di potervi portare alla recensione di un mulinello con un sistema che probabilmente a molti di voi risuona già nella memoria nelle orecchie ma magari molti di voi altrettanto non l'hanno mai provato esattamente un mulinello col bite runner con questo sistema per chi di voi non sa di che cosa si tratta ve lo spiegherò quando lo vediamo da vicino vi voglio parlare del nuovo nuovissimo daiva free swimmer br in questa taglia 5000 free swimmer un nome che letteralmente viene tradotto lo sono andato a cercare chiaramente come nuotatore libero in realtà immagino che voglia prendere spunto dalla libertà che possiamo dare a questo gruppo frizione ebbene sì un mulinello che ha come caratteristica principale la possibilità di una volta tarata la nostra frizione di liberarla con il tocco della leva posteriore e di andarla poi a chiudere nel momento in cui vogliamo fermare il pesce o ferrare appunto la nostra preda ora bando alle ciance lo andiamo a vedere da vicino vediamo le caratteristiche di questo mulinello che oltretutto sono caratteristiche di medio alta qualità e poi rimanete con noi per qualche consiglio che sarà piuttosto un argomento piuttosto importante da valutare per qualche consiglio sull'utilizzo di questo daiva bite runner bene partiamo subito dalla scatola di questo bite runner troviamo qua il logo daiva e qua chiaramente il codice 23 free swimmer br lt 5000 ci raccontano un sacco di cose un mulinello quindi appena arrivato il nome del mulinello br sta per bite runner questo sistema lt vuol dire che fa parte della serie lt che vi abbiamo poi appena proposto in questo ultimo periodo che sono i nuovi lt arrivati appunto in quest'anno 2024 con i codici 23 nel riassunto della parte posteriore della scatola troviamo le cose interessanti che sono l'air drive design quindi troveremo su questo mulinello tutto quello che è la manetta quello che è l'archetto quello che è il rotore e il corpo già in air drive design quindi questo insieme di cose di nuova generazione insieme alla frizione atd type l quindi abbiamo già una generazione type l e l'altra cosa interessante può essere questa sigla br system che significa questo sistema di bite runner in questo caso abbiamo in italia solo 5.000 vedo che all'estero ci sono già gli 8.000 e 10.000 spero arrivino perché sono giustificate come misure insieme a questa del 5.000 come sistema di bite runner in questo caso questo mulinello è un 5 2 a 1 290 sono i grammi di peso 12 kg max drag della posizione 87 sono i centimetri recuperati di filo ogni qualvolta completiamo un giro completo di manetta e 5 cuscinetti a sfera direi che meccanicamente questo potrebbe essere collocato tra l'exceler e il nuovo fuego vediamo cosa contiene la scatola chiaramente i bugiardini e le varie rondelline l'abbiamo già eliminate vediamo subito quello che è il mulinello con la sua manetta ve lo lascio un secondo così in sovraimpressione e vi parlo un secondo della manetta una manetta che conosciamo già perché è praticamente identica uguale a quella del fuego probabilmente anche compatibile con le manette del fuego quindi dura alluminio pezzo unico in unico elemento e abbiamo qua un knob che invece è in eva piuttosto duro piuttosto liscio bello con il suo coperchietto per l'ispezione l'eventuale lavoro di manutenzione quindi una manetta assolutamente anche oltretutto molto molto leggera veniamo al mulinello se io vi nascondo il bike runner abbiamo in mano esattamente un 5000 come taglia quindi una taglia che si allinea insieme alle altre un mulinello frizione anteriore rullino guida filo twist buster di terza generazione un archetto solide come abbiamo visto nelle tre prima menzionate serie di mulinelli che vi ho recensito nella parte posteriore però troviamo un'aggiunta questa leva la leva del bike runner aperta e chiusa che viene poi regolata da questa rotella quindi attenzione la rotella posteriore regola la tensione e l'apertura di questo bike runner quando il bike runner è disinserito questo è come se non esistesse entra in funzione chiaramente la solita frizione ora però vi faccio vedere in pratica come funziona vi ho lasciato appositamente la chiusura quindi il tappo del nostro mulinello da questo lato perché questi mulinelli arrivano strano ma arrivano con il coperchio dalla parte opposta al solito sistema quindi questo mulinello andrebbe benissimo già così com'è per i destri in questo caso non facciamo altro che smontare il nostro tappo lo andiamo a inserire dall'altra parte quindi andiamo a chiudere anche esteticamente il filetto prendiamo la nostra manetta e montiamo la nostra manetta esattamente come facciamo sui mulinelli con la manetta che si avvita direttamente sul corpo corona mi piace il fatto che questo mulinello abbia questo tipo di sistema perché significa già essere in quella serie di mulinelli di medio potenza il fatto di avere la manetta subito sul corpo corona non ci fa avere giochi neanche nel tempo mulinello che devo dire a prima sensazione molto fluido è esattamente come fare girare un fuego lo scatto di questo solid so che a molti di voi magari non piace tantissimo come archietto esteticamente ma devo dire che è migliorato rispetto all'air bail passato ve lo faccio vedere la parte anteriore abbiamo la nostra farfalla non entriamo troppo nel dettaglio perché in realtà è come vedere la recensione del nostro fuego voglio diciamo utilizzare qualche secondo di questa vista da vicino facendovi vedere che cosa vuol dire bite runner siamo in pesca ve lo faccio in pratica abbiamo la nostra frizione tarata su una chiusura ad esempio così quindi bella chiusa vedete che faccio una certa fatica quindi la frizione è tarata in questo modo se io a questo punto vado ad aprire il mio bite runner la mia bobina vi faccio vedere si libera quasi totalmente quindi molto più libera rispetto alla frizione tarata prima a questo punto con questa piccola regolazione posso andare ad aprirla tutta quindi così la bobina è completamente libera vedete come è fluida e libera da questa parte vado a chiudere questa parte di bite runner vado a rallentare questa uscita anche quando questo è tutto chiuso quindi tutto serrato la mia bobina sarà sempre libera perché abbiamo il bite runner inserito basta disinserire il mio bite runner anche se questo fosse tutto aperto ve lo faccio vedere apriamo tutta questa parte ok quindi adesso è tutto libero non faccio altro che chiudere il mio bite runner a questo punto la frizione subentra esattamente come l'ho tarata la prima volta quindi all'inizio a questo punto questo è il la visione da vicino del nuovo free swimmer di daiva vi ho spiegato anche brevemente come funziona questo bite runner se avete poi bisogno abbiamo fatto diversi video appunto che parlano di questo andiamo alle mie conclusioni soprattutto i consigli finali non mi sono dilungato troppo nel farvi vedere le caratteristiche tecniche di questo mulinello perché di fatto basta che voi andate a vedere la recensione dell'excelero del fuego è come esattamente avere in mano uno di quei due mulinelli pecca rispetto al fuego perché questo non ha il mag seal ed è vero però ha tutte le caratteristiche la manetta avvitata sul corpo corona l'air drive design sul rotore questo disegno tratto da una sfera questo archetto che chiude benissimo come tutti gli altri vi dicevo in più questo mulinello che ha questo sistema del bite runner che vi ho voluto mostrare perché suppongo che molti di voi magari non lo conoscano consigli sull'utilizzo qua invece c'è da parlare parecchio volendo perché il bite runner è un sistema che ci permette di aprire tutta la frizione senza perdere la memoria di quello che noi abbiamo pretarato quindi il concetto qual è io sono a pesca lancio a fondo la mia esca taro la mia frizione già su quella che può essere la rottura della parte più debole del mio terminale per esempio una volta che sono in pesca se desidero che il pesce prenda l'esca e faccia una piccola fuga magari su esche naturali molto diciamo di dimensioni piuttosto importanti su pesca naturali di consistenza abbastanza dura su quelle su quelle pesche dove ad esempio voglio pescare con il vivo quindi sappiamo tutti che è sempre bene lasciare viaggiare via un po il pesce prima di ferrarlo ecco invece di andare aprire la farfalla con tutti i problemi che ne possono competere quindi il fatto di perdere la farfalla del mulinello se non addirittura a volte la bobina la possibilità poi di non avere più la chiusura tarata cioè quindi la domanda è quando chiudo quanto chiudo io taro già all'inizio la mia frizione inserisco il mio bite runner e la mia bobina è completamente come vedete libera di ruotare il pesce va via quello che noi desideriamo farlo andare via senza sentire nessun tipo di attrito possiamo eventualmente in condizioni di corrente o magari di vento andare a tarare questo bite runner frenandolo a prendere un gocino in più nel momento in cui noi siamo pronti alla ferrata del pesce possiamo a mano andare a chiudere la levetta oppure semplicemente con mezzo giro di manetta il bite runner si sblocca da solo e ferrare mi raccomando un consiglio per esperienza ricordatevi sempre quando ferrate il pesce di disinserire il bite runner altrimenti qua dentro scoppia la vera e propria rivoluzione del nostro filo o del nostro trecciato perché vi ricordo che questo mulinello che col twist buster di terza generazione il tipo di imbobinamento e tutti quelli che sono i meccanismi può essere utilizzato tranquillamente e con il trecciato quindi consigli sull'utilizzo ve l'ho già detti chiaramente un mulinello destinato per la pesca a fondo quindi pesca dalla barca pesca da terra pesca quindi in lago senza nessun tipo di problema con questo sistema del bite runner molto molto comodo possiamo anche utilizzarlo per una sicurezza ci allontaniamo un attimo dalla canna possiamo aprire il bite runner dobbiamo far passare il filo negli anelli possiamo aprire il bite runner insomma tutti i consigli pratici perché è un sistema che io ho sempre usato moltissimo quindi moltissimo un un altro tipo di pesca che potrebbe essere impiegato specificatamente mi piace anche come misura per quella potrebbe essere light drifting che noi facciamo le palamite ma in realtà si può fare a tutto il pesce azzurro e non solo anche al pesce di fondo come tipo di pesca a bolentino insomma un oggetto che mi fa piacere recensire perché i bite runner oggi sono pochi alcune aziende ne hanno uno due modelli a ciascuna sul catalogo però diciamo che è un oggetto poco evoluto quindi vederne uno bite runner di questa dimensione centrata un po per tutti e soprattutto con queste evoluzioni nuove quindi vi ricordo che abbiamo l'evoluzione nuova l'ultimo air drive design questo mi fa molto piacere mi piace molto il mulinello di per sé chiude funziona molto bene il prezzo buon rapporto qualità prezzo 135 euro all'uscita di questo mulinello che poi sarà più o meno su quella cifra per tutta la stagione beh credo che rispetto a un excelero a un fuego che siamo più o meno lì questo sistema del bite runner possa andare bene sicuramente per gli amanti dello spinning diciamo che è un accessorio è un'aggiunta di peso in più su una taglia 5000 che direi che potremmo farne tranquillamente a meno per quanto riguarda invece la pesca a fondo invito chi di voi non l'ha mai provato proprio per una questione di comodità qualora doveste avere bisogno di un 5000 anche se poi il bite runner lo userete poco o magari lo usate poi magari non vi piace molto difficile provatelo perché secondo il mio punto di vista potrebbe essere molto importante chiudo questo video facendo una preghiera a daiva cercando di spiegargli che il bite runner nel nostro mondo può essere utilizzato anche per esche per pesche molto molto gravose quindi invito appunto daiva a portare esattamente questo mulinello anche nella taglia 8000 10.000 vedo che all'estero ci sono già quindi questa è una cosa una richiesta specifica che faccio in questa recensione ad aiva perché mi piace davvero questo oggetto e sono sicuro che il ritorno del bite runner per quelle pesche che oggi sono a fondo dalla barca in tutte queste tecniche con tutte queste nuove canne che stanno arrivando soprattutto da rotante per quanto riguarda il mondo del fisso ritengo possa essere molto molto comodo un voto a questo mulinello posso dare tranquillamente un 9 in realtà potrei dare meccanicamente anche un 9 e mezzo ma diciamo che do un 9 voglio solo vedere nel tempo questo bite runner come gira facendolo ruotare al punto critico dei bite runner molto molto veloci sento che non fa rumore eventualmente un rumore all'interno della cassa potrebbe voler dire che il sistema del bite runner magari non ha agganciato bene questo ve lo ripeto sempre per l'esperienza sono contento di potervi dire che su questo free swimmer non ho trovato per il momento questo problema quindi questo è un mulinello che prende assolutamente un bellissimo 9 se vi fa piacere acquistarlo o vederlo da vicino potete venire in negozio o lo trovate chiaramente sul nostro sito internet qua sotto vi lascio il link in descrizione a questo punto concludo il video invitandovi come faccio di solito a seguirci sui nostri social iscrivervi al nostro canale youtube e assolutamente attivare le notifiche che per noi è sempre molto molto importante a questo punto io e il nuovo daiva free swimmer 5000 vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi grazie a tutti Grazie per la visione!